Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono Giulio, ve lo farò la recensione di un film che è appena uscito nei cinema italiani che è L'uomo che vendette la pelle. Film drammatico diretto da Cauterman Adir, spero di averlo pronunciato giusto, un film produzione internazionale ma ambientato tra Siria e Libano. Siamo nel 2011 quando in Siria c'è l'ennesimo conflitto che mette veramente in ginocchio la popolazione e in questo contesto delicato, difficile, che tuttora continua ad essere difficile, si racconta la storia di Sam Ali e Abir, una giovane coppia fidanzata, anzi ultra innamorata, si trovano in viaggio sul treno e Sam Ali che è un uomo molto istintivo, anche possessivo e passionale, grida sul treno la voglia di sposare Abir e vuole far sapere a tutti quelli che sono sul treno e da qui iniziano subito le sue difficoltà perché questo desiderio di amore, di libertà non è assolutamente ben visto della politica siriana, tant'è che lui viene subito incarcerato per la sua manifestazione a suo modo rivoluzionaria che non viene ben vista. E qui inizia la vita difficile di Sam Ali perché la compagna Abir conosce l'ambasciatore belga siriano e quindi tramite lui trova un modo per andare via dalla Siria, trovare un visto per andare in Europa, appunto in Belgio. Invece per Sam Ali purtroppo non c'è la stessa possibilità e Sam Ali vive con un grande trauma questa separazione dalla donna che avrebbe sposato a breve e poi perché appunto viene violata la sua libertà. Scappa dal carcere, si rifugia in Libano dove appunto vive come rifugiato e in quel contesto cerca in qualunque modo per ottenere un visto, andare in Europa e a trovare la sua amata, anche se la sua amata dato il trasferimento e date le difficoltà ha deciso di intraprendere un'altra via, ovvero quella di fidanzarsi e poi sposarsi in breve tempo con lo stesso ambasciatore siriano in Belgio. Ma lui Sam Ali è un uomo passionale, non desiste, vuole comunque raggiungerla e cerca in qualunque modo, anzi il modo che utilizza è un modo decisamente estremo perché incontra un critico, anzi un artista d'arte contemporanea, Geoffrey è un artista americano che gli fa una proposta si può dire abbastanza indecente, nel senso che gli chiede di prestare il suo corpo per realizzare un'opera d'arte, un'opera d'arte però particolare, ovvero un grosso tatuaggio sulla schiena con scritto sopra Visa Schengen che è il visto che non solo i siriani ma tutti i rifugiati vorrebbero avere per poter vivere in Europa e quindi lui mette a disposizione il proprio corpo per questo tatuaggio. Ciò gli dà la possibilità appunto di andare in Belgio e quindi di ritrovare la sua amata di viaggiare in Europa e per quanto riguarda la sua amata cerca di far capire quanto lui si è innamorato di lei, gli permette di viaggiare in Europa, gli permette anche di avere un compenso economico non indifferente al punto che vive in alberghi da 5 stelle e gira per tutto il mondo perché lui stesso è un'opera d'arte ma in realtà questa è una conseguenza traumatica per lui e per la comunità siriana perché questo vendere il proprio corpo per un'opera d'arte e soprattutto farsi tatuare quello che è il visto per poter lasciare il proprio paese non viene assolutamente ben considerato, tant'è che Samali viene avvicinato da degli agenti segreti siriani per fargli cambiare idea e soprattutto fargli capire che quello che lui sta facendo fondamentalmente è uno sfruttamento, è un essere schiavi di un'economia e di un certo concetto d'arte. Questo è in breve la sintesi del film. L'uomo che vuole vendere la pelle è The Man Who Sold His Skin. In realtà poi la trama prosegue ma non voglio andare nei particolari fino a un finale molto poetico che ho trovato molto molto bello. Ecco, questa è la storia. Quello che ho da dire su questo film secondo me è un film riuscito abbastanza, non completamente, nel senso che ha momenti molto interessanti che pone questioni come quello dell'uso del corpo al servizio dell'arte e quindi la strumentalizzazione dell'arte stessa per un altro fine che funziona bene. Quello che secondo me funziona bene e bene è soprattutto l'inizio che è un po' altalenante, un po' incerto. L'utilizzo, il cast in generale l'ho trovato di buon livello, comunque un livello efficace per l'interpretazione che viene chiesta, per il ruolo che viene fatto a dispetto di l'unico neo nel cast è Monica Bellucci che interpreta un assistente dell'artista americano che è decisamente stereotipata, oltre al fatto che Monica Bellucci secondo me con i capelli biondi non è che proprio stia bene, forse perché siamo sempre abituati a vederla con i capelli scuri e quindi il nostro immaginario è quello però che i capelli biondi secondo me non sta bene e poi l'interpretazione è veramente didascalica, veramente stereotipata, è un personaggio piatto, prevedibile, non l'ho trovato né lei né l'interpretazione, sia nel personaggio particolarmente avvincente, mentre diciamo il qui del senso del film si trova, anche se ripeto è un po' altalenante e ci sono momenti un po' di stanca, momenti in cui questo discorso dell'arte al servizio che sfrutta il corpo viene un po' ripetuto, però è anche interessante vedere come, ed è l'altro elemento secondo me molto riuscito, vedere la determinazione di Sam Ali interpretato da Yana Manaini, spero di averlo detto giusto, nel raggiungere il suo scopo, cioè sei in una condizione così complicata, così difficile, che sei disposto a tutto, ed è un concetto che capisco, nel senso che sei in un contesto di guerra, tu devi cercare la libertà, devi cercare di ritrovare la donna che ami e quindi sei disposto a tutto e questo secondo me è un ottimo obiettivo che raggiunge il film. Poi nel finale il film ha anche un po' un'avvenatura, diciamo, di intrigo, dico internazionale, nel senso che questo discorso di, no, non c'è nessun riferimento a Hitchcock, questo discorso di cercare la libertà, usare il proprio corpo per l'arte e raggiungere quello che si vuole raggiungere, ha un twist che ho trovato molto carino e che, ammetto anche, non scendo dai dettagli, ma ci sono anche cascato in pieno e quindi mi ha fatto piacere. È un film di 90 anni, di meno a 100 minuti che funzionano, direi, discretamente e che soprattutto ci proiettano in un contesto che non siamo soliti vedere. Ecco, forse la cosa che mi sarei soffermato di più è, nella parte introduttiva, il contesto proprio siriano. Avrei voluto avere qualche informazione di più sul contesto di guerra, sulle difficoltà, perché poi in realtà in breve Sameli riesce a scappare in Libano e quindi inizia la sua ricerca di libertà. Ecco, l'unica cosa che avrei voluto sapere è un po' di più, però per il resto direi che è un film che si fa guardare, lo si vede volentieri e si finisce con quel messaggio finale che è un messaggio assolutamente costruttivo. Questo è quello che volevo dire sull'uomo che vendette la sua pelle appena uscito al cinema, nei cinema italiani. Per questa recensione è tutto, ciao a tutti e alla prossima! Grazie!